Domanda da un milione di dollari. Esiste il malocchio? Ci credete? C'è o non c'è? Allora che cosa dicono i maestri della Kabbalah? Non la Kabbalah, la Kabbalah. Cosa dicono i maestri della mistica ebraica? Ebbene dicono che questo malocchio a volte sì esiste, ma vediamo quando. Malocchio in ebraico si dice Ein Ha Ra, occhio cattivo. Ma esiste un altro concetto che si chiama Ein Ra, cioè l'occhio che ti guarda male. Ecco, questo Ein Ra è l'origine di Ein Ha Ra, cioè il malocchio nasce quando qualcuno inizia a guardarti e a guardarti un po' strano. Quando è che succede che questo malocchio ha effetto sulla nostra vita in maniera negativa? Quando qualcuno inizia a guardarci e a dire ma quello si merita davvero quello che possiede, ma si merita davvero di avere vinto la lotteria, di aver guadagnato il suo primo miliardo di dollari? Davvero tutto quello che ha è proporzionale ai meriti che possiede? E allora in cielo si risvegliano e aprono i nostri libri e guardano e dicono ah vediamo se signor tal dei tali si merita davvero quello che gli abbiamo dato. E a volte purtroppo succede che la persona non se lo meriti tanto e quindi iniziano ad esserci un po' problemi. Allora che cosa possiamo fare noi per fare in modo che questo occhio cattivo un po' invidioso delle persone non provochi poi che in cielo ci sia un malocchio vero, un Ein Ra vero su di noi? Allora la regola dice, dice la tradizione ebraica che quando c'è qualcosa di molto vistoso come una vincita alla lotteria, avere ereditato parecchi miliardi di euro, in quei casi è meglio proprio non farlo sapere, cioè mettersi un po' con un low profile, un profilo basso. Invece negli altri casi quando noi semplicemente magari ci siamo fatti una casa nuova con i risparmi che abbiamo messo via per tutta la vita, ci siamo comprati un bel vestito dopo anni e anni che magari non ci compravamo niente, oppure semplicemente ci godiamo la vita ma senza renderci troppo in vista e senza fare in modo che il nostro stile di vita sia super vistoso. Non c'è nessun problema, il malocchio non ci può colpire, quindi l'invidia delle persone al massimo gli ritorna contro. Una piccola regola per fare in modo che veramente siamo sempre al sicuro, non mettiamoci troppo in vista, semplicemente teniamoci un pochino senza doverci dare arie, che anche va bene perché l'umiltà è sempre una cosa buona, e magari postiamo un po' meno sui social, facciamo vedere un po' meno le nostre vacanze, perché lì sicuramente ci proteggiamo, però stateci sicuri, a meno che non abbiate vinto alla lotteria o ereditato parecchi miliardi, il malocchio non vi può fare nulla.